Siamo a Sanremo, Radio Bruno Tutti cantano Sanremo E' tornato a trovarci qui a Radio Bruno Area Stile, Alessio Bernabèi Eccomi qua ancora una volta Che bello riaverti, come sta andando, come ti senti? Devo dire che questi due giorni al festival mi hanno segnato perché mi sono molto divertito e l'ho presa molto con leggerezza e positività Questo è bello Sì, è bello, non senti né competizione né la gara quindi la prendi come un, ok, buttiamoci, facciamo vedere la nostra canzone, la nostra musica Vai, spacchiamo tutto proprio Spacchiamo tutto e balliamo sul palco perché ti scateni Sì, sì, mi scateno molto ma è una canzone che comunque dà questo sprint, questa gioia, questa leggerezza appunto che ti viene in voglia di saltare e di ballare Quindi L'album, lo raccontavi la scorsa volta, avrà diverse sfumature musicali Sì, esatto L'album che uscirà l'8 aprile avrà tantissime influenze all'interno quindi metto queste influenze da anni e anni di esperienza musicale messe in un album che avrà, sarà un album molto vario quindi non avrà solo brani a tempo come noi siamo finiti ma ecco, c'è un po' di tutto Il messaggio più carino che hai ricevuto dopo la prima esibizione? Il messaggio più carino dopo la prima esibizione, ma riguardo in generale? In generale, emozionante, che ti ha stupito? Sicuramente ho ricevuto tantissimi messaggi mi è bastato ricevere messaggi dove descrivevano la canzone e descrivevano quanto aveva convinto la canzone quindi già che la canzone ha convinto tante persone, per me è il massimo Un grandissimo risultato Dopo Sanremo che cosa succederà? L'album? Sì, dopo Sanremo dovrò chiudermi in studio di Brutto con le sbarre al muro, alle finestre Sì, finisco di incidere l'album e poi ci saranno anche i primi live che ancora dobbiamo scegliere dove stabilire Alessio, questa sera si ritorna in gara? Esibizione? Votazione? Sì, esatto, si ritorna in gara Qual è il tuo spirito? Che cosa ti aspetti? Ma sicuramente sento molto supporto da casa perché ho una famiglia di fans incredibili che sono sempre là pronti a votarti, a fare di tutto sono pazzeschi, anzi li ringrazio, li saluto perché sono veramente la mia vita e grazie a loro che sono qua quindi ringrazio sempre loro e vada come vada alla fine la prendo molto sportivamente quello che mi interessa è che la canzone è molto radiofonica quindi passi e convinca le persone faccia stare meglio le persone, semplicemente è sicuramente così, quindi grazie mille ad Alessio Bernabei grazie a voi saluta tutti gli amici di Radio Bruno un bacio a tutti gli amici di Radio Bruno Radio Bruno